Io ho avuto questa idea sin dalla mia prima gravidanza, che risale circa tre anni fa. Ho incontrato in questo bellissimo cammino tantissime mamme che mi hanno appoggiato, con cui abbiamo condiviso tantissime cose. Solamente quest'anno si è deciso di aprire questa pagina Facebook e aumentare di più il numero della mamma per veicolare sempre più questa bellissima iniziativa. Che si presifigge cosa? Lo scopo è quello di preparare la mamma a un percorso ludico, psicologico, come supporto, condividere insieme anche dei laboratori, degli incontri con degli specialisti e tante altre sorprese. Quali progettualità avete già in programma? L'obiettivo dell'associazione è quello di diventare un contenitore che veicoli sia una cultura dell'infanzia che una cultura per l'infanzia. In questo caso l'associazione vuole portare avanti all'interno del territorio tutta una serie di progetti che portino avanti una cultura a dimensione di bambino. E' anche una progettualità nel territorio che riesca anche a modificare quello che è il territorio in un'ottica appunto predisposta per l'infanzia. Da qui poi il protocollo d'intesa che abbiamo già predisposto con il Comune di Siracusa per l'adozione di un parco all'interno del quale attivare attraverso dei laboratori di cittadinanza attiva un percorso che conduca appunto alla riquilificazione di un parco in funzione dei minori. Allora la nostra amministrazione ha subito sposato l'iniziativa del gruppo MAMME in quanto questa amministrazione per la prima volta ha instaurato un assessorato all'infanzia. Ovviamente da sola l'amministrazione non riesce ad abbracciare tutte le problematiche quindi ci è sembrata molto seria la proposta di questa associazione MAMME di Siracusa e abbiamo subito fatto un protocollo d'intesa come assessorato all'infanzia e assessorato alle politiche sociali. consisterà nel lavorare insieme per i bambini. La prima progettualità è quella di affidare a loro un parco, sicuramente sarà il parco dei marinaretti dove loro faranno un centro operativo di lavoro. La prima progettualità è quella di affidare a loro un centro operativo di un centro operativo di un centro operativo. La prima progettualità è quella di affidare a loro un centro operativo.